Emanuele Vaccarini ci ha lasciato, il gladiatore di avanti un altro, lutta davanti un altro Emanuele Vaccarini, aveva 44 anni, si è spento nelle ore scorse, il cordoglio di alcuni colleghi che, come lui, hanno lavorato e lavorano al quiz di Canale 5 di Sonia Bruganelli interpretava il gladiatore nel minimondo del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, faceva parte del cast sin dal 2019, al momento non sono state rivelate le cause del dicesso, anche se secondo quanto riporta TV Blog l'uomo di recente avrebbe parlato sui social di alcuni problemi di salute, Emanuele Vaccarini è nato a Roma nel 1977, avrebbe compiuto 45 anni il 18 luglio, suo padre sperava che diventasse un calciatore, proprio come lui, ma Emanuele non sembrava appassionarsi a quello sport, anche il padre, a un certo punto, dovete cedere e ammettere che forse il figlio non era tagliato per diventare l'erede di Totti, ad aiutare Vaccarini a scoprire la sua passione, fu la madre, la donna, infatti, un giorno decise di scriverlo a karate, e così, Emanuele trovò una disciplina a cui dedicarsi con piacere, nel tempo, ha coltivato anche il bodybuilding, MMA, arti marziali e pugilato, insegnando anche questi sport, per il suo fisico imponente, spesso veniva chiamato a interpretare il ruolo di comparsa nei film in costume o di guerra, ma l'uomo non si dedicava esclusivamente allo sport, lavorava anche alle ferrovie, inoltre, sulla sua pagina Instagram amava condividere con i suoi follower, ricette culinarie spesso appartenenti alla tradizione romana, il suo personaggio, quello del gladiatore, rispecchiava anche la sua passione per le arti marziali, il bodybuilding e vari tipi di combattimenti, tanto da diventare anche istruttore di arti marziali miste, quello che si vedeva in avanti un altro, però, era un personaggio che doveva richiamare l'antica Roma, tant'è che le domande del gladiatore richiamavano quel periodo storico, da tutti definito un gigante buono, negli ultimi tempi Vaccarini si era dato anche alla realizzazione di alcuni video sui social in cui consigliava alcune ricette della cucina tipica romana, senza abbandonare mai la sua passione per il combattimento, da Sonia Bruganelli e Francesco Nozzolino, i messaggi di cordoglio in poco tempo, nei panni del gladiatore, era riuscito a farsi amare dai suoi colleghi e dal pubblico, sono tanti quelli che, in queste ore, lo stanno ricordando sui social, Sonia Bruganelli gli ha dedicato un post nelle Instagram Stories, riposa in pace gigante buono, Francesco Nozzolino, anche lui parte del mini mondo davanti un altro, lo ha ricordato con un intenso messaggio, la notizia della sua scomparsa è giunta come un fulmine a ciel sereno, anche tra coloro che lo hanno affiancato in studio davanti un altro, in primis, Francesco Nozzolino, ovvero il XXXL nel programma, che con il gladiatore, nel salottino, aveva dato vita ad una gag che si ripeteva nel corso delle puntate del quiz. Al prossimo episodio